8, 9, ma siamo in 9? Ci penso io ragazzi. Senti, ti fai di giocare con noi. Magari. Però sei fisso in porta, eh? E la vero? Comunque non sai male, se ti allegni a giugno puoi venire ai mondiali con noi. Ma davvero? Tu sei mai stato a Berlino? No, una volta. Grazie.